Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Diego e oggi siamo qua, come avete letto dal titolo, per dirvi come si fa i tornei anche senza 2FA Allora, ve lo spiego subito, ma prima di cominciare mi raccomando lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Mi raccomando, attivate la campanellina, così restate sempre aggiornati su tutti i miei video, su tutti i miei live, mi raccomando Adesso ve ne parlerò, non vi farò dimostrazioni, ma state tranquilli che funziona Perché, da cosa l'ho capito, ve lo spiego subito, che mio fratello ha fatto questa cosa e gli ha fatto fare il 2FA E invece nel primo account non gli ha fatto fare niente, non glielo fa attivare il 2FA, quindi adesso vi spiegherò come si fa Allora, come primo passaggio, raga, voi dovete creare un altro account, l'account principale lo dovete lasciare, cioè non lo dovete eliminare, però non lo usate Create un altro account, create con la vostra email e tutto, prendete l'email e la mettete nel 2FA, come tutto, come nel primo account Mettete email e password e quello lì vi accetterà il 2FA, non si sa perché, è un bug di Fortnite, del 2FA Però mi raccomando, fatelo, che puòarsi scade tra, non lo so, qualche ora, qualche giorno, non lo so, intanto verrà patchato a breve Quindi mi raccomando, fatelo subito, infatti anche io dopo questo video lo andrò a fare subito, mi raccomando E poi in caso vi porterò una partita dove vi farò vedere che ho il 2FA, perché in teoria oggi c'è il torneo in singolo E quindi, quasi, mi devo muovere a arrivare a 2000 punti E quindi, era un breve video per dirvi come si fa, mi raccomando, se non avete capito i passaggi, basta me lo scrivere qua sotto i commenti, ve lo scriverò qua sotto Quindi mi raccomando, raga, spero che questo video sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando, lasciate un bel mi piace Noi ci vediamo in un prossimo video, bella raga